In mezzo al casino, uno magari si muove, si sposta, dà una bottarella alla torcia, se questa si gira, io scasto, guardo se ho la testa che punta di là. Si inizia a capire che magari è un mondo tutto da scoprire e che ti può dare soddisfazione enorme. Come è successo con me? Come è successo con me? Cioè, lo illuminavi ma comunque risultava comunque scuro lo sfondo. Si. Quindi è un show ca... Come è successo con me? Come è successo con me? Grazie a tutti.